Noi siamo persone semplici, lavoratori onesti che rispettano le regole, ingenui e facili da ingannare. Ma se un giorno, dopo il fallimento della vostra banca, scopriste che il direttore ha rubato i vostri soldi, voi cosa fareste? Secondo voi è il momento di affrontare una cosa simile? Sì, ben organizzato questo posto può dare lavoro a, non so, quanti abbiamo detto l'altra volta? 20, 30 persone. L'idea è di costituire una cooperativa. Che è una cooperativa? Io 47 dollari, bastano per iscrivermi? Io ne metto 100.000. 158.047 dollari. È il momento migliore. Peggio non può andare, che altro ci può capitare? Il resto del denaro depositato nei conti correnti non potrà più essere... Cosa ha detto? Che è fallita la banca. Che hai, Fermin? Oh, ma... Un certo Manzi ha fatto scavare una buca per nascondere i soldi che ci ha fregato. Sai che sto pensando? Che dobbiamo fare qualcosa. Il direttore della banca ci ha fregati. Fonetemi! Hanno fattuto un paese intero e voi ve la prendete con mio marito? Noi non siamo ladri, stai con noi o con loro? Oggi è una giornata storica. Ci riprendiamo quello che è nostro. Che fai, Medina? Per non farmi riconoscere. Ma non c'è nessuno qui. Non si sa mai. Per non farmi riconoscere la. Ma non la tenta che hai, sempre ho vedendo il futuro. ų